Mancano pochi giorni all'inizio del Festival Passaggi, che porrà Fano al centro dell'attenzione nazionale in fatto di editoria, grazie alla presentazione di tutti i best seller della saggistica su temi di attualità, storia, economia, arte, letteratura e biografie. In 11 anni il Festival ha raggiunto una notorietà che l'ha posto al pari delle principali manifestazioni che si svolgono in argomento. L'attuale edizione tiene alto il suo prestigio per i personaggi che presenta, aggiungendo alla presentazione di libri, laboratori, mostre, incontri con gli autori, masterclass, salotti letterari, letture in spiaggia e iniziative per bambini. Questa mattina le nuove proposte del Festival sono state presentate dall'assessore regionale alla cultura Chiara Biondi, dal sindaco Massimo Seri, dal presidente dell'associazione Passaggi, che organizza l'evento Cesare Carnaroli, e dal direttore organizzativo Giovanni Belfiori. Dal 21 al 25 si svolge l'undicesima edizione del Festival Passaggi, un festival che ha grandi numeri e grandi personaggi. Cominciamo dai numeri, Giovanni Belfiori. I numeri che li leggo, per chi ha memoria non mi ricordo, però sono numeri interessanti, perché noi abbiamo in 5 giorni di festival 142 eventi, 184 ospiti, 16 rassegne, 96 libri, 68 case editrici coinvolte e 120-125 persone dello staff che gestiscono il festival. Quindi è davvero un impegno, io direi, un impegno enorme. E se non ci fosse quel numero di volontari, quelle persone che danno la mano, Passaggi sarebbe impossibile da organizzare. Anche perché, come tu dicevi, ci sono anche grandi ospiti. Natascia Stefanenko, Paolo Stella, Paolo Borzacchiello, abbiamo, che so, Nando dalla Chiesa che torna ancora con un libro nuovo, Pietrangelo Buttafuoco, abbiamo Gianfranco Fini. Insomma, davvero è un festival vario e credo interessante. Veniamo alle novità. Le novità, guarda, ne ho appena citata una. Il libro di Pietrangelo Buttafuoco, Beato Lui, Biografia dell'Arce Italiano, Silvio Berlusconi, doveva uscire a fine giugno. E poi gli eventi hanno fatto sì che arrivasse in libreria qualche giorno fa. Avrò l'onore e anche l'onere di intervistarlo insieme a Massarenti. Abbiamo Paolo Nori, un grande scrittore amatissimo, che verrà venerdì, sempre in piazza 20 settembre, venerdì 23. Abbiamo questo duo, che potrebbe sembrare un duo canoro, ma non è, Nando dalla Chiesa, che presenta il suo libro, La legalità è un sentimento, e con lui sul palco c'è chi? Gigliola Cinquetti. Lucia Annunziata, premio Andreu Barbato, lo storico Franco Cardini, premio Passaggi, l'economista Stefano Zamagni, che verrà il giorno d'apertura, mercoledì 21, al Chiostro delle Benedettine. Concludiamo con le location. Quali ribalte ospiteranno il festival nella città? Nel centro storico abbiamo la piazza 20 settembre, dove ci sono i nomi più popolari, poi abbiamo la chiesa di San Francesco, poi abbiamo la Mediateca, a fianco della Memo c'è il Chiostro delle Benedettine, rassegne tematiche, sala da te Lucellin Belverde, tutti i pomeriggi alle 6 e mezza, conversazioni scientifiche, andiamo al Pincio, al mare, Bonbon, Lido di Fano, presentazioni di saggi al mattino, Bagni Elsa, Fosso Seiore, presentazioni di saggi, e libri anche qui per un pubblico giovane, Bagni Torrette, quindi andiamo all'estremità sud di Fano, mostre alla Mediateca Montanari, nella residenza municipale del comune di Fano di via San Francesco, al Paricentro di via Montevecchio, Caffè Centrale, Centrale Edicola e Notteca Terra. Un evento importante, una vetrina per la città, un momento culturale molto alto, è una grande occasione anche di crescita e di confronto con gli autori protagonisti dell'anno in corso. Ho un pizzico d'orgoglio perché è l'undicesima edizione e ne ho vissute da sindaco dieci, a dimostrazione che ho creduto molto in Passaggi Festival, e Passaggi Festival non ha deluso, perché in questi anni è cresciuta veramente tantissima e con numeri straordinari, per cui è un grande momento, come dicevo, di vetrina, di promozione e di attenzione verso la nostra città.